Sindaco, lei oggi ha inviato una lettera ai vertici della Creval che esprime tanta preoccupazione per una situazione che si sta verificando e che si verificherà nel suo territorio. Ancora è informale, però da giorni ormai si rincorrono le voci di un'intenzione della Carifano Credito Valtellinese di voler ridimensionare i suoi sportelli presenti sul territorio. Non si parla neanche di poche cose perché mi pare che vogliano mettere in discussione la sede, la filiale della zona industriale di Fano, la filiale di San Costanzo, quella di Piagge, quella di Villanova e Tavernelle a Coglio al Metauro, anche se a Tavernelle si parla di ridimensionamento e non di chiusura. E inoltre, sempre parlando del comune dove ho l'onore di essere sindaco, Coglio al Metauro, lì c'è stata anche una soppressione forzata di uno sportello Bancomat che era l'unico esistente proprio nella frazione di Saltara e che per il momento non è stato ancora ripristinato, dico forzata nel senso che è stato fatto saltare per una rapina, però non è stato ancora ripristinato dalla banca e quindi non so se abbiano intenzione o meno di farlo. Allora io, allarmato e preoccupato da queste voci, stamattina ho chiamato la direzione generale del credito valtellinese, ho fatto presente tutte queste situazioni e gli ho anche detto che qui non si tratta solo ed esclusivamente di un disservizio verso le imprese e di cittadini del territorio di Coglio al Metauro e anche di altri comuni. Si tratta proprio della, diciamo, mancazza proprio di cultura di quello che era una banca del territorio che era cosiddetta vicina ai cittadini, che era pronta ad offrirgli servizi. Ecco, oggi è diventata una burocrazia, è vero che tutto evolve, tutto va online, però io credo che nel territorio serva anche una presenza fisica del servizio e ho fatto presente questa esigenza e ho anche fatto presente che dal mio punto di vista non vuol dire che se uno sportello bancario viene chiuso e se ne rafforza un altro in un comune vicino poi la clientela segue per forza quello sportello, può benissimo dispedersi giustamente in altre realtà. Quindi ho detto alla banca che secondo me può essere un danno anche per loro chiudere uno sportello, non è detto che sia solo un risparmio. Tutto ciò si è tradotto anche proprio in una nota scritta che io ho fatto al credito valtellinese 6 centrale e anche alla sede di Fano, ex Carifano, su questa lunghezza d'onda. Spero che questa cosa sia ascoltata, mi preme particolarmente da sindaco di Colle al Metauro che si mantenga la sede di Villanova, la filiale di Villanova, che non si ridimensioni quella di Tavernelle e che venga anche istituito il servizio Bancomat così come era prima a Saltara. Su questo siamo disponibili anche a una collaborazione come comune qualora ci siano le condizioni per poterlo realizzare. Grazie.